Il 15% dei voli all'Italia è già stato cancellato, ma la protesta di 24 ore proclamata dai piloti e dagli assistenti di volo promette di creare ulteriori disagi. Domani, su tutto il territorio nazionale, ad esclusione dei voli da e per Bologna e Venezia, i sindacati hanno deciso di protestare, si legge in un comunicato, alla mancanza di risposte concrete alle legittime istanze dei colleghi Cityliner che hanno il diritto, sancito dagli accordi contrattuali, di ottenere una corretta omogeneizzazione del loro sistema retributivo con quello dei colleghi di all'Italia e al rifiuto aziendale di mettere nero su bianco l'impegno a mantenere i livelli occupazionali del personale navigante al termine della solidarietà. Cancellati dunque decine di voli a corto e medio raggio, disagi che vanno ad impattare su una situazione all'aeroporto Leonardo da Vinci molto difficile. Alla riapertura del molo D del Terminal 3, infatti, non è seguito un ritorno alla normalità e a una settimana di distanza sono ancora tanti i ritardi registrati e i passeggeri costretti a tese di ore.